E' tutto in diretta qua, è diretta da Piazza Duomo, oggi è la questione del Beccaio, tra poco presenteremo le nostre canzoni, Raffaele, Cantante Raffaele Caccavale, Teodoro Liberti, e poi c'è lo staff, la nuova musica, Odissea Experienza, di Caccavale Santilla, poi c'è la paranza nolana di Peppe e Carmine Cutolo, i volontari, e poi c'è la famiglia, e poi c'è la famiglia Vecchione che sono messi di festa da 30 anni, oggi festeggiano il trentennale, e poi c'è l'impianto auto Pino Parise e tutto lo staff, poi c'è Piazza Duomo sempre gremita, torniamo dopo 4 anni e quindi anche la giornata è favorevole, il sole, e quindi che dire, alla fine dico sempre viva Nola, viva San Paolino, viva la festa dei G, a questo punto perché oggi si festeggia anche lo scudetto del Napoli, esatto, un grande applauso al Napoli. Quindi tutto, tutto, si festeggia tutto oggi, quindi forza Napoli, non mirare me, mira la punta, la punta.